Buongiorno a tutti, compagni e compagni e simpatizzanti. Il viaggio ha presentato, io sono Franco Ferraira, sono membro di Sinistra, Classe e Rivoluzione, sezione italiana della tendenza marxista internazionale. La discussione di oggi riguarda le vicende di questo grande avvenimento della storia mondiale e il più importante sicuramente della storia del movimento operario, che è la rivoluzione russa del 1916. Per comprendere a pieno questi avvenimenti è necessario comunque avere un quadro, anche se sintetico, delle condizioni della Russia pre-rivoluzionaria. La Russia ha avuto nel Medioevo uno sviluppo particolare, molto più arretrato rispetto all'Occidente. Il feudalesimo in Russia è rimasto su posizioni più arretrate, ha visto uno scarso sviluppo della città, un scarso sviluppo anche dell'artigianato, della manifattura, ed era un paese prevalentemente agricolo, basato su una cultura agricola di tipo estensivo. Gli zar, in questo quadro, i Romanov, gli zar si appropiano nel XVI secolo di questo impero con un sistema ereditato dall'autocrazia bizantina. riescono ad asservire con l'aiuto della Corte i signori feudali e ad essi asservano oppure sottomettono la classe contadente. La funzione della Chiesa ortodossa in questo sistema non è stata come nell'Occidente, diversamente appunto dalla funzione della Chiesa cattolica. La Chiesa ortodossa è stata sempre in funzione subordinata al regime degli zar. Ed è per queste condizioni che si è sviluppato, attraverso queste condizioni, uno stato di tipo asiatico con praticamente un'impossibilità di una riforma religiosa. Sostanzialmente, a differenza dalla storia dell'Occidente, nella Russia di quel tempo mancava un terzo stato. Nel XIX secolo i nobili che possedevano fabbriche, qui si comincia a introdurre, a vedere embrioni di capitalismo, si pronunciano per la sostituzione del lavoro servile con il lavoro salariale. Difatti, nel 1861, lo zar Alessandro II abolisce la servitù della fleba. Abbiamo qui, nella Russia, il primo embrione di capitalismo, che peraltro non è uno sviluppo uniforme. Trova delle concentrazioni anche significative con grandi fabbriche, a Pietrogrado, a Mosca, nella regione del Caucaso, però non è molto uniforme. Noi vediamo qui, nella particolarità della Russia, questo applicata in maniera plastica, diciamo, la legge dello sviluppo combinato e diseguale. Si manifesta nella sua forma più evidente, potremmo dire. C'è qui anche la presenza di capitale straniero significativo, capitale francese, inglese, tedesco, belga, e che si mescola, diciamo, anche con la proprietà proprio della novità dei capitalisti. Di fronte a questa situazione abbiamo quindi una classe operaia minoritaria, però molto giovane, complessivamente considerando tutti i componenti familiari, la classe operaia ammonta circa 25 milioni di individui. Ma abbiamo questa classe dispersa in un mare contadino. I contadini sono circa 100 milioni. E dall'altra parte si contrapone, diciamo, la classe dei latifondisti, che sono pochi, sono circa 30 mila, ma proseggono dei latifondi molto estensi. Infatti la situazione delle terre vede una distribuzione di questo tipo. Le proprietà della Corona, le proprietà della Chiesa Ottobossa, i grandi latifondi, che generalmente sono amministrazioni che vanno dalle 500 desiatine a oltre le 1000 desiatine. La desiatina è una misura agraria russa che corrisponde circa ad un ettaro. E tutto il resto, diciamo, è poi diviso tra i contadini medi, i kulaki, e i piccoli contadini, i contadini pochi. Dunque, questa è la situazione sociale che ci troviamo alla vigilia dell'epoca rivoluzionaria della Russia, che ha un prologo nel 1905 con una rivoluzione che fallisce. Abbiamo però nel 1905 la formazione dei primi Soviet, cioè quindi legalmente dei consigli di operai, di contadini, e poi successivamente saranno anche, ma solo successivamente, dei soldati. Nel 1905 si sviluppano degli scioperi, c'è un'ondata di scioperi che tocca la punta massima di 1.843.000 partecipanti. Dopo la repressione vi è un'ondata di riflusso, di riflusso che inciderà per molti anni, fino a cominciare ad avere una sintomi di ripresa dal 1910 in avanti, e soprattutto tra il 1910 e il 1914, fino a arrivare allo scoppio della prima guerra mondiale. È proprio in questa epoca che si divarica poi in maniera definitiva con le due correnti del partito per aglio socialdemocratico russo, cioè i men'scerichi e i bolshevichi. I men'scerichi si appoggiano, diciamo, sugli estratti più demoralizzati della classe operaia, quelli che in sostanza hanno rotto con una tradizione rivoluzionale, a differenza dei bolshevichi che invece si appoggiano sugli estratti più dinamici e più avanzati che non rinunciano all'impresa rivoluzionale della classe operaria. Quindi questa è una prima distinzione fondamentale che farà vedere tutti i suoi effetti negli anni avvenuti. Riprende dal 1910 il movimento nelle fabbriche, c'è un'intensificazione dal 1912-1914 quando scopre la prima guerra mondiale. Il 4 agosto del 14 la socialdemocrazia tedesca vota i crediti di guerra. Il solo Karl Liebig si oppone a questa nefandezza, a questo vero e proprio tradimento del proletariato tedesco e internazionale. Nel 1915 si ha la conferenza di Zimmerwald, Cainta, dove Lenin traccia la prima linea di demarcazione netta con il tradimento della seconda internazionale che giudica ormai irrimediabilmente perduta alla causa del proletariato. Verso la fine, nel periodo di guerra, la guerra inizialmente fa da, diciamo, da freno in un primo momento alla mobilitazione delle masse. Ecco, però successivamente, anche durante il periodo di guerra, quando le condizioni di vita si aggravano, avremo una ripresa di questo movimento. È un periodo nel quale anche il partito bolshevico ha delle difficoltà di tipo organizzativo. Le condizioni sociali sono disastrose, industria di guerra, inflazione, scarsità di generi alimentari, disorganizzazione nei trasporti, ma una condizione di vita veramente dura. In tutta questa situazione abbiamo un regime, quello della monarchia zarista, veramente cieco, ottuso, sia i due sovrani, lo zar e la zarina, sono due sovrani che non hanno nessuna caratteristica personale per dover avere un ruolo di guida di quelle regime sociali. Sono ottusi, sono crudeli e sono anche inclini a superstizioni, ecco, a credenze esoteriche. Tant'è vero che la razza in particolare si appoggia sul su Rasputin, cosiddetto Monaco Pazzo, un individuo, questo mugite del siberiano, dedito allo stupro e all'ubriachezza. La Corte cerca e gli ufficiali cercano di uscire da questa situazione attraverso una rivoluzione di palazzo, uccidendo il Rasputin nella speranza, peraltro vana, di dover conservare i loro privilegi. È in questo quadro che si arriva alle giornate di febbraio. Il 23 febbraio è la giornata internazionale della donna. La socialdemocrazia russa pensa a manifestazioni di tipo rituali, cioè manifestini, discorsi, riunioni, però quel giorno che corrisponde nel calendario al nostro 8 marzo vengono gli operai e le operarie, le operarie tessili di Pietro Bucco entrano in sciopera. Sono 90.000 gli scioperanti di quella giornata. la richiesta è pane a basso l'autocrazia a basso l'autocrazia. Si riversano sulla prospettiva nefsi e si dirigono alla Duma municipale richiedendo queste cose. In quei giorni di turbolenti, di rivoluzione, gli operai rivendicano la giornata lavorativa di 8 ore. C'è da vedere il comportamento della guarnigione di Pietro Bucco. I soldati sono in un primo momento in fase di attesa ma poi solidarizzano con i manifestanti. Gli stessi cosacchi che avrebbero dovuto caricare la forla attaccano ma non in maniera brutale. Non attaccano a ventaglio, vanno in fila indiana, strizzano l'occhio ai manifestanti, i manifestanti si infilano sotto la pancia dei cavalli, cercano di girarli dalla loro parte. E qui accade anche qualcosa che sarebbe stato impensabile fino a poco tempo fa. Entrano in scena i poliziotti, i faraoni che cercano, che sparano sulla folla. I cosacchi stessi si rivoltano contro i poliziotti e contro i poliziotti si rivoltano anche i soldati. sono il 26 di febbraio il reggimento, la quarta compagnia del reggimento Pavlovski che sarebbero stati i pretoriani della Guardia Imperiale e siamo finiti. Vengono circondati dal reggimento Preobrasensky ma i soldati del Preobrasensky si pongono contro i loro ufficiali e permettono a questi soldati del Pavlovski che erano stati circondati arrestati di fuggire con un certo numero di fucili di armi. È l'inizio diciamo chiaramente della disgregazione dell'esercito. Successivamente nella giornata successiva entrano e anzi nella stessa giornata del 26 lo sciopero si allarga. Lo sciopero si allarga e entrano in sciopero di 240.000 operati sono soprattutto la maggiore consistenza e quello del quartiere di Vingor che è il quartiere delle fabbriche il quartiere principale dove c'è anche una delle più grandi fabbriche russe la Putin che ha circa 35.000 operai. In questa fase gli operai cercano in tutti i manieri gli operai di solidarizzare con i soldati li trascinano letteralmente dentro le loro fabbriche e dicono guardate come ci tratta guardate come ci tratta questa simbiosi acquista sempre più valenza e si inizia una divaricazione fondamentale tra i soldati e i quarti degli ufficiali che sono quelli più conservatori non solo al preo Brasensky ma altri reggimenti si uniscono gli Torsi gli Smaidorsi che erano stati consegnati nelle caserne e persino il reggimento Semyonovski che era stato il principale artifice della repressione a Mosca durante la rivoluzione del 1905 dove negli scioperi di Mosca di quell'anno morivano 150 operai repressi appunti da questo reggimento militare la situazione quindi diciamo si risolve a febbraio nel giro di pochi giorni viene riaperto il Soviet di Pietrogrado il quale assume diciamo il controllo della situazione si occupa di tutto dei rifornimenti alimentari dell'ordine della città della pulizia di tutte le cose agisce come un vero e proprio potere statale a mezzogiorno del 27 Pietrogrado è un campo di battaglia è un campo di battaglia si conteranno mi pare più di circa 1400 vittime ma in questo periodo che la rivoluzione dà la caccia ai suoi nemici la caccia ai poliziotti ai nemici della rivoluzione e le masse hanno letteralmente in mano il potere ma cosa succede in questa fase hanno in mano il potere ma a chi lo passano lo passano alla democrazia conciliatrice cioè sono misceliti socialisti rivoluzionari si forma nel Soviet una maggioranza di questi elementi sono presenti anche i bolshevichi e però il potere passa nelle mani di questa maggioranza conciliatrice la quale lo trasmette alla borghesia liberale la quale borghesia che funziona avuto in questa rivoluzione ha avuto la funzione di andare a rimorchio della rivoluzione ne va a rimorchio ne diffida proprio per i suoi legami che aveva con l'aristocrazia e con la grande proprietà fondiaria si decide di formare un governo con tramite il comitato esecutivo del Soviet di Piero Grado con personalità che erano state già indicate allo zar in una fase precedente di questo elenco non fa parte al momento Perensky ma c'è Miljukov che è il leader del partito cadetto un borghese diciamo potremmo definire organico da questo punto di vista il principe Lovov è il presidente di questo di questo consiglio dei ministri Rozianko un generale monarchico è il presidente della Duba una delle prime riunioni del Soviet di Pietro Grado sotto dettatura dei soldati viene varato il Pricazze numero 1 cioè un documento che sancisce una sorta di carta delle libertà dell'esercito rivoluzionale dove si vengono a indicare i diritti e il rispetto delle persone dei soldati che avevano fino a quel momento vissuto vessazioni incredibili da parte dei quadri ufficiali questa è la situazione generale il partito bolshevico in questa situazione i bolshevichi che erano in Russia su che posizioni erano erano nella posizione che pensavano di dover fare l'alla sinistra della democrazia rivoluzionaria cioè dividevano al momento in due fasi questa era la fase della rivoluzione democratica borghese e rimandando a una seconda a una seconda fase quella della rivoluzione socialista ma dall'estero Lenin non è di questo partito i dirigenti bolshevichi compresi quelli di Pietrogrado pensano che il vecchio così era soprano in atto non si rende conto della situazione ma quando viene qua capirà e quindi capirà che non possiamo fare altri qui si ha il rientro a questo punto di Lenin in Russia Lenin era esule in Svizzera fa un accordo con lo stato maggiore tedesco la questione del cosiddetto treno blindato che in realtà è un vagone destinato a questi 30 membri con i quali hanno delle garanzie di incolumità personali di non essere perquisiti eccetera ma questo è un vero e proprio trattato internazionale è un vero e proprio internazionale nella quale Lenin non concede niente non baratta nulla questa è una questione da tenere molto adentro perché lo stato maggiore tedesco concede questa cosa ma loro pensavano che Lenin avrebbe fomentato certamente la rivoluzione in Russia ma questa avrebbe favorito la vittoria nella guerra da parte delle truppe delle truppe tedesche le cose andranno diversamente Lenin arriva in Russia alla stazione di Finlandia lo vanno ad accogliere una folla nella stazione nella sala centrale della stazione di Finlandia gli si fa incontro Ceize con tutta la coda della democrazia di febbraio gli viene offerto un mazzo di fiori e Lenin viene applaudito osannato quest'uomo guarda con il suo sguardo appunto roteando gli occhi guarda questa platea ma non è incline come nel suo carattere a dover essere cerimonioso e va subito al blu dice operai contadini e soldati saluto in voi la rivoluzione vittoria facendo una netta distinzione tra quella che è la rappresentanza burocratica della democrazia di febbraio e le masse operaglie e contadini questo è Lenin va alla sera si tiene rientrano in città si tiene subito una riunione dei quadri del partito bolshevico sono scudisciate presente su Canov che è mensherico ma la moglie bolshevico Lenin dice in sostanza questo noi non abbiamo bisogno di una repubblica democratico borghese abbiamo bisogno di una repubblica sovietica la sola che possa porre fine alla guerra e porre il problema dalla ricostruzione del paese questo è quello i dirigenti bolshevichi sono attoniti Zinovia e Kamenev non sono d'accordo stanno in maniera molto più opportunista come nel suo stile si defila il giorno successivo il 4 aprile vengono pubblicate le cosiddette tesi del 4 aprile ma verranno pubblicate solo a suo nome perché Lenin non ha avuto l'approvazione del Comitato Centrale e quindi qui si passa a una fase successiva che sono quelle delle giornate di aprile il 23 marzo gli Stati Uniti entrano in guerra nella stessa giornata contemporaneamente si svolgono le esequie dei morti dei martiri della rivoluzione di febbraio vengono accompagnati a campo di Marte ci sono le 50 bare del quartiere di Vigor ammantate con la bandiera con la bandiera rossa i cannoni tuonano all'unisola delle salve di addio non ci sono incidenti ma questa sarà una delle ultime manifestazioni unitarie che si svolgeranno successivamente la questione continua ad aggravarsi c'è insofferenza nell'esercito c'è insofferenza fra gli operai c'è insofferenza nei contadini che non vedono risolta nessuna delle loro istanze in sostanza la guarnigione di Pietrogrado che si era praticamente liquefatta tentano si tenta di dover mandare delle truppe le truppe più rivoluzionari al fronte c'è l'opposizione dei soldati si arriva alla giornata del 20 aprile dove c'è una manifestazione di redici di guerra sono redici che si oppongono che si contrappongono l'uno all'altro c'è chi stampella come controstampella ci sono coloro che vogliono dicono guerra fino in fondo altri che vogliono invece vogliono la pace sotto dietro a queste manifestazioni c'è il partito cadetto che tiene un grande comizio sulla protettiva ma le masse si mobilitano scendono in strada scendono in strada in strada armata vogliono un'altra questione vogliono la fine della guerra per cui il 26 di aprile si decide di formare il comitato esecutivo del soviet decide di formare un governo di coalizione il primo governo di coalizione nelle quali entrano i socialisti e e dentro Karimski il processo va avanti ci sono le manifestazioni del primo maggio non ci sono incidenti e tutti obbediscono agli ordini del sogno da questo punto di vista si arriva quindi al periodo successivo che è quello di giugno perché il 3 giugno si apre il primo congresso dei soviet a Russia dove il comitato esecutivo del soviet dà in sostanza il permesso a Karimski di riprendere l'offensiva in questo mese si pensa a una manifestazione pacifica inizialmente indetta per il 10 giugno poi successivamente per il 18 per il 18 di giugno ecco una manifestazione che è contro la guerra non ci sono incidenti in questo momento ma si divarica anche lo scontro di classe nel senso che la borghesia i capitalisti russi vogliono farla finita non solo con i bolshevichi ma anche con la rivoluzione per questo e con la classe operaia per questo propongono una serrata ci sono divisioni discussioni all'interno della classe capitalista e in sostanza si decide per una serrata di tipo di tipo graduale a questo punto viene lanciata l'offensiva al fronte i tedeschi indietreggiano i tedeschi indietreggiano per attestarsi su posizioni fortificate i soldati russi avanzano ma poi si fermano ci sono anche episodi di fraternizzazione tra soldati tedeschi austriaci e soldati russi semplicemente i soldati non hanno più intenzione di combattere questo è un fatto è una svolta decisiva si arriva così l'offensiva fallisce e si arrivano alle giornate di luglio le giornate di luglio che stanno di improvvisazione anche qui c'è un moto diciamo spontaneo il primo reggimento dei mitraglieri decide di scendere in strada armato proseguono i 30.000 operaio della Pultilov i bolschelighi non erano d'accordo su questa questione Lenin giudicava prematuro il momento di una insurrezione ma di fatto le parole d'ordine sono tutto il potere ai soviet a basso i dieci ministri capitalisti ecco questo porteo si rivolge verso Sera verso il palazzo della Chiesinskaya che era la sede del partito bolshevico la Chiesinskaya era la ballerina era la sede del partito bolshevico li chiamano alla finestra e dice scendete in strada poche storie scendete in strada i bolshevichi sono costretti a cambiare diciamo le decisioni del comitato centrale e mettersi alla testa anche loro della manifestazione una manifestazione che si dirige verso palazzo di Taurit ci sono scontri con i cosacchi si arriva però è una manifestazione che non ha obiettivi ben definiti alla fine anche tutta tutta la guarnigione di Pietrogrado non è esattamente cosciente allineata su una posizione insurrezionalista e in sostanza la manifestazione si scioglie ed è qui perché nel frattempo il governo i conciliatori avevano diffuso la notizia che Lenin avrebbe avuto una trattativa segreta quella appunto che fa riferimento al treno di dato con i tedeschi quindi sarebbe stato un traditore della patria è il mese della grande calunnia questa notizia viene diffusa da un giornale inizialmente il governo non ci crede quindi non dà spazio a questa cosa ma poi la cavalca questa notizia viene diffusa da un giornale della famiglia Suvorin che è Novoglio Frema dove si riporta la testimonianza di un certo termolenco che era un agente del controspionaggio russo dove si parla di questa possibile intesa tra Lenin e lo Stato Maggiore tedesco naturalmente è un'invenzione di sana pianta ma questo basta a scatenare la repressione contro il partito bolshevigo che di fatto viene messo fuori legge vengono fuori legge i giornali molti dirigenti vengono arrestati Lenin è costretto a fuggire in Finlandia lo stesso Trotsky verrà poi arrestato e rinchiuso nella prigione di Cresti il 26 di luglio si svolge il sesto congresso del partito bolshevico dove c'è di sostanza un congresso di unificazione tra il comitato interdistruttuale quello che faceva diciamo riferimento a Trotsky che nel frattempo nel mese di maggio era rientrato dagli Stati Uniti via Canada attraverso Halifax e trattenuto lì per un mese quindi questo spiega il ritardo dell'ingresso di Trotsky in Russia di fatto si era già decisa prima questa unificazione però si aspetta al congresso per raccogliere il numero più largo possibile di quadri anche di questo comitato interdistruttuale che confluisce nel partito bolshevico siamo ad agosto alla metà di agosto si apre la conferenza di Stato dove è in un teatro con 2500 persone la metà la destra questa qua è la borghesia liberale alla sinistra c'è la socialdemocrazia conciliatrice sono presenti anche diversi bolshevichi in veste di osservatori al palco c'è Kerensky e viene chiamato anche il generale contro monartico contro rivoluzionario Mosch in sciopero ci sono 400.000 operai in sciopero quindi la conferenza di Stato si sfogge in questo in questo clima insulti tramolate un lato e l'altro della platea Kerensky chiama Kornilov e lo definisce addirittura il primo soldato della rivoluzione in realtà tutti e due hanno tendenze buonapartiste ma Kornilov che è stato definito por di leone testa di montone per il suo carattere di generale riazionario ma intransigente a suo modo anche coraggioso mette subito le carte in tavola bisogna riportare la disciplina nell'esercito ripristino della pena di morte nelle retrovie e al fronte però diciamo Kerensky sospetta e il 27 il 27 destituisce Kornilov dalla carica di generalissimo che si ribella il piano di Kornilov prevedeva l'accerchiamento di Pietrogrado utilizzando la cosiddetta divisione selvaggia montanari del Cacoso al comando del principe Bragadin notti per la loro crudeltà tre divisioni che dovevano venire dal fronte sud di cavalleria e la divisione che era a distanza al nord doveva pressare Pietrogrado appunto dalla parte nord ma il piano militare fallisce in pieno perché le truppe contro rivoluzionarie appena vengono a contatto con gli ocarai i ferrovieri che deviano i vagoni con le truppe vengono a contatto con i lavoratori con i reparti degli eserciti che erano più avanti nella coscienza rivoluzionaria passano addirittura dall'altra parte quindi il piano Kornilov fallisce in pieno e in questa maniera si ha una ripresa della classe operaia e una ripresa fortissima dell'influenza dei bolshevichi il 9 settembre è una data importante perché in questa data c'è i bolshevichi conquistano la maggioranza nel soviet di Pietrogrado e Trotsky ne diviene il presidente del comitato esecutivo diviene il presidente del comitato esecutivo mettendo alla berlina il diciamo il comitato direttivo del soviet il quale contava ancora fra i suoi membri di Kerensky Trotsky dice ma come c'è ancora Kerensky che è un traditore uno che ha complotato stava complotando con Kornilov questa rivelazione questa rivelazione questo intervento scompagina le file della democrazia conciliatrice la quale passa in minoranza e Trotsky viene appunto eletto presidente del comitato esecuto nel frattempo nelle campagne si accende la guerra contadina Lenny ancora in esilio rifugiato in Finlandia in questo periodo tra l'agosto e il settembre del 1917 che scrive una delle sue più importanti opere statua di domizioni questi strumenti teorici Lenny continua nella sua opera di armare politicamente il partito ecco alla presa del potere ci sono ancora parecchie incertezze e di sensi nei dirigenti del partito bolshevico il 14 settembre si apre ad un mese esatto circa ad un mese dalla conferenza di stato di Mosca la conferenza democratica Lenin preme per non partecipare non vuole né questa né la partecipazione al pre al pre parlamento ma dice bisogna farla finita col governo Kerensky e il potere deve passare al ai soldi al ai soldi nel frattempo viene alla fine ci sarà una partecipazione dei bolshevichi ma non ci sarà un assenso politico a un governo di coalizione sì perché nel frattempo i cadetti sono usciti dal governo e si è formato un secondo governo di coalizione sempre con a capo con a capo Kerensky siamo vicini all'ottobre la guerra contadina aveva incegnato le campagne c'è l'occupazione delle terre i contadini il lascia del contadino si abbatte inesorabile su tutto e su tutti vogliono stanare chi li aveva sfruttati fino a quel momento incendiano anche quello che magari non sarebbe stato da incendiare ma è una furia devastante Lenin capisce che questo è il momento questo è il momento e per quello è impaziente ed è impaziente anche con i suoi per le tergivizzazioni che hanno non comprende queste cose e fa una pressione formidabile il congresso dei soviet doveva il secondo congresso parrusso dei soviet doveva tenersi nella giornata del 20 di ottobre slitta di qualche giorno di fatto si aprirà il 25 e il 9 di di ottobre viene decisa la formazione del comitato militare ritenizionale questo perché perché i soviet non erano i soviet essendo un grande organismo democratico non era tuttavia adatto perfettamente adatto ad una ad organizzare una insurrezione che aveva bisogno di tempi di decisioni di tempi ristretti e quindi non poteva questa cosa essere attuata attraverso una consultazione diciamo di tipo democratico con i suoi tempi tempi lunghi questa funzione l'avrebbe potuta assolvere benissimo il partito ma questo esponeva ad un rischio sarebbe stata molto più efficace da questo punto di vista ma c'era il rischio di essere considerati come quelli che si vogliono appropriare del partito e la questione della legalità in una fase rivoluzionaria ha sempre un'importanza soprattutto nel riflesso della coscienza delle masse perché si doveva far comprendere da una parte essere audaci ma dall'altra parte anche rispettosi di quella volontà non si voleva passare in sostanza come degli usurpatori e quindi il comitato militare rivoluzionario è stato formato con questa funzione intermedia possiamo dire che però comportava anche dei rischi perché vi erano anche dei nemici degli avversari dell'insoluzione che avrebbero potuto capire momenti eccetera momenti cospirativi che necessariamente ci sono ma quello era un rischio che si doveva correre e si è corso il congresso dei soviet si tiene al palazzo dello Smoni il palazzo delle ocche bianche dove la gioventù orata della morbidità veniva alle giovinette venivano allevate un tempo alle arti alla danza e a quant'altro ecco e si svolge lì e lì è anche la sede del comitato militare rivoluzionario al terzo piano quindi queste due cose due organismi si fondono sono insieme nello stesso edificio nello stesso edificio si organizza a questo punto l'insurrezione si organizza l'insurrezione è una sorta di caos organizzato si occupano strade ponti centrali telefoniche persino la banca di stato non viene ignorata a differenza di quanto era successo per la comune di Parigi viene deciso lo stato maggiore che doveva dare l'assalto a palazzo d'inverno dove nel frattempo si era rifugiato il governo il governo i tre comandanti della piazza sono Podvojski Ciudanowski e Antonov si raccolgono in sostanza circa 30 35 mila uomini ma nella giornata del 25 si ritarda continuamente l'assalto definitivo si aspettava il segnale della l'antenna rossa dalla fortezza di Pietro di Pietro e Paolo la quale doveva dare segnale all'incrociatore Aurora che era a distanza sulla neva per sparare il primo colpo di canone che avrebbe dovuto dare il segnale dell'assalto al palazzo non si vogliono fare vittime il meno possibile c'è molta in decisione c'è chi dava ordine chi non poteva darne e insomma è come si dice proprio un caos organizzato ma tutto non deve far pensare comunque a un qualcosa di assolutamente spontaneo eccetera no l'elemento organizzativo c'era e come ecco ed è stato tutto graduato fino a portare l'insurrezione al punto di ebollizione nella quale non bisognava avere incertezze di nessun tipo ecco questo è il punto quindi il congresso dei soviet si apre con mattino con le riunioni varie riunioni di frazione e si aspetta questo segnale in un primo momento i deputati sono 650 390 sono bolshevichi e quindi hanno già la maggioranza assoluta si arriverà a 900 delegati con le varie delegazioni dei soviet che vengono da regioni più da regioni più lontane e finalmente poi verso le 10 di sera si ha diciamo la presa l'ingresso i tentativi di penetrare nel palazzo che era difeso dal Juncker e da un battaglione d'assalto femminile al quale si aggiungerà poi un distaccamento di soldati degli Urali comprendente circa 200 soldati i quali però vedendo come era la cosa se ne vanno e si uniscono ai rivoltosi in sostanza ci sono le prime infiltrazioni dei rivoltosi all'interno del palazzo finché poi continuano vengono disarmati gli ufficiali i Juncker i quali si arrendono praticamente senza opporre resistenza Antonov Osenko entra nella sala di Malachite nella grande sala del palazzo d'inverno che era tutto al buio per paura dei cannoneggiamenti dalle nobile guerre che erano ancorate sulla neva e in una stanza attigua c'è il governo riunito dalla quale non c'è Cherensky le sue veci le fa con Ovalor Cherensky era andato via la giustificazione con i suoi compagni di ministero era quello che andava al fronte a cercare a cercare i rinforzi in realtà se ne era scappato andrà a cercare certo dei rinforzi ma era andato via sotto una protezione su una macchina messa a disposizione dall'ambasciata dall'ambasciata americana Antonov Osenko entra nella sala dove sono radunati i Vinci e li dichiara li dichiara in arresto vengono portati alla fortezza di Pietro e Paolo e non gli viene torto un un capello questa è la fine del governo provvisorio la rese del palazzo d'inverno arriva al fonogramma al congresso del Soviet sono le 2 e 10 del 26 ottobre del 1917 il congresso panruzzo dei Soviet prosegue è Lunacharsky che pronuncia la frase nella quale considera decaduto il precedente comitato esecutivo è decaduto è stato deposto il governo il congresso dei Soviet assume i pieni poteri è la conclusione della rivoluzione è la conclusione della rivoluzione e il nodo gordiano è stato sciolto sarà Kamenev a poi dichiarare l'ordine del giorno finale dove viene nominato il consiglio dei commissari del popolo il comitato esecutivo dei Soviet che vede 101 rappresentanti di cui 72 bolshevichi 29 socialisti internazionalisti ai quali si aggiungeranno i delegati dei Soviet contadini e delle rappresentanze dell'esercito che dovranno essere rielette in segno a chi se ne era andato a chi se ne era andato viene a chi se ne era andato questi sono i primi atti del governo bolshevico quando Kamenev dichiara chiuso il congresso sono le 5 e 15 del 26 ottobre del 1900 e dice del 5 del 1900 del 27 ottobre mi scusate 1916 nella mattina stessa nella mattina stessa la Pravda l'organo centrale del partito bolshevico che riprende il suo vecchio nome esce con un articolo dove dice ci hanno detto che noi vogliamo prendere il potere da solo in realtà non hanno voluto condividerlo sapendo delle grandi difficoltà delle enormi difficoltà alle quali noi saremo andati alle quali il paese va in conto noi questo potere lo invece lo assumiamo per risolvere questi problemi ma nel momento in cui lo assumiamo avremo la mano del pugno di ferro contro i nemici della rivoluzione e contro coloro che la sabotano questo hanno sognato la dittatura di Kornlob daremo loro la dittatura del proletariato compagni quali disegnamenti quali l'ascito politico da da queste da queste vicende e l'ascito è quello di comprendere i meccanismi della rivoluzione e di quello che è necessario fare per guidare in sostanza le masse non fanno volentieri le rivoluzioni più di quanto non facciano le rivoluzioni ma c'è una differenza sostanziale e le rivoluzioni le masse fanno le rivoluzioni quando non hanno un'altra via di uscita dalla situazione di crisi nelle quali si trovano nelle quali si trova la loro condizione di vita ecco perché fanno le rivoluzioni in tutti e due questi avvenimenti le guerre le rivoluzioni ci sono elementi cospirativi ma anche qui c'è una differenza fondamentale nella guerra nelle guerre la cospirazione è subita mentre invece dalle masse mentre invece nelle rivoluzioni le cospirazioni sono dettate certamente anche da circostanze esterne ma interagiscono necessariamente con le volontà delle masse che si organizzano per dover arrivare allo scopo che si sono via via man mano prefisse una condizione condizione essenziale per lo sviluppo per una situazione rivoluzionaria è che il regime esistente non sia più in grado di far fronte alle necessità della società questo è un punto fondamentale ma non basta questo perché questa ci sia una una rivoluzione bisogna perché ci sia quella occorre che esista una classe una classe che sia in grado e voglia prendere il potere ecco perché questo possa perché questo possa avvenire questa classe ha necessità di dover verificare momento la validità delle proprie azioni a necessità di fare dei bilanci potremmo dire transitori transitori anche per misurare il rapporto di forza con le classi con le classi avverse questo guardate è quello che è successo esattamente negli otto mesi della Russia rivoluzionaria le masse avanzavano e esplicavano tutta la potenza della loro azione se aveva una risposta delle classi avverse le quali tentando di rispondere alla violenza delle masse rivoluzionari non facevano altro che constatare via via il loro isolamento ecco quindi in situazioni di questo genere bisogna che la classe la classe rivoluzionaria acquisisca sempre più questa coscienza nelle proprie potenzialità ha bisogno di doverla misurare questa questiva l'aumento di questa coscienza è la premessa indispensabile perché ci sia un mutamento sostanziale nei rapporti politici ecco questo è l'elemento sono gli elementi alcuni degli elementi fondamentali ma c'è dell'altro bisogna che anche l'iniziativa coraggiosa della classe operaia abbia appunto la capacità di coinvolgere anche altre classi che sono quelle più oscillanti la piccola ma qual è l'altro elemento fondamentale in questa questione last but not last list è l'esistenza di un partito rivoluzionario tutto quello che era mancato nella rivoluzione tedesca del 1919 nel movimento rivoluzionario in Italia con l'occupazione delle fabbriche con la rivoluzione in Germania del 1983 del 1923 scusate con la rivoluzione spagnola del 1931 ecco è l'esistenza di un partito di questo un partito che per fortunate circostanze storiche sia nazionali e internazionali si è invece formato in Russia un partito guidato dalla salda mano di Lenin e di Trotsky ma che aveva anche nei suoi membri delle persone degli uomini dei combattenti rivoluzionali assolutamente determinati erano gente che faceva quel che diceva e questo ha costituito la differenza con gli altri chiacchieroni quelli della democrazia della democrazia conciliatrice quindi questo un partito con una lungimiranza strategica con una sagaccia tattica incredibile perché un partito che sapeva capiva capiva che la rivoluzione ha delle sue leggi che ne condizionano lo sviluppo il movimento e che a volte non si raccordano perfettamente con la soggettività del partito rivoluzionario e neanche con la soggettività della classe operaria questa è la questione fondamentale che costituisce un'avanguardia all'altezza all'altezza dei compiti avere questa indipendenza di giudizio tenendo conto tenendo conto ovviamente dei fatti ecco questo sia chiaro quindi in sostanza chi ha criticato gli avversari della della rivoluzione che hanno criticato il bolshevismo per non i metodi socialisti nel periodo immediatamente dopo la rivoluzione per non avere ancora una situazione disastrata dal punto di vista economico una situazione difficile dimenticano che dopo la presa del potere c'è stata una guerra civile che ha depaucarato risorse ha messo le condizioni ha frustrato grandemente e grandemente le masse ma anche in questa circostanza quelle masse che avevano giurato davanti a Trotsky nella riunione del soviet di Pietrogrado di non tradire la rivoluzione non la tradirono non la tradirono e andarono fino in fondo a costo di sacrifici in mesi a prezzo anche dalla loro vita naturalmente diciamo questo che i bolshevichi non avevano mai preso impegni né scadenze né date né impegni di creare paradisi in terra no nessun impegno di questo genere quello che ha fatto ha fatto la rivoluzione di ottobre è quello di avere squarciato un velo nei rapporti sociali di aver posto le basi per una nuova organizzazione della società sì perché la storia umana in sostanza la possiamo riassumere come un accumulo della coscienza dello sviluppo della coscienza l'uomo è arrivato a sviluppare grandemente la tecnica le scienze specialmente quelle fisiche chimiche eccetera ma i rapporti sociali si sviluppano ancora alla maniera delle isole corraldiche e nella sfera della politica il parlamentarismo ha gettato una luce artificiale su questi rapporti non potendo però incidere nella sostanza dei rapporti di fondo dei rapporti economici della società capitalistica quello che ha fatto la rivoluzione d'ottobre è stato proprio questo di alzare il velo su questa più profonda sfera dell'inconscio ecco questo è quello che è stato fatto e naturalmente questa questione porta ad alcune considerazioni finali agli scettici si può dire che sembrava non si poteva credere che il il portiere l'usciere di un palazzo di giustizia potesse diventare presidente della corte d'appello si è dovuto credere non si voleva credere che un manovale potesse diventare prefetto di una città si è dovuto credere non si poteva credere che i sotto ufficiali di ieri potessero diventare dei generali si è dovuto credere non si voleva credere che un fabbro potesse diventare un capo ufficine si è dovuto credere e così è stato dal momento dal momento che i sottotenenti di ieri hanno sconfitto i generali dal momento che i manovali diventati prefetti hanno messo ridotto a ragione i padroni della città e dal momento che i fabbri hanno rimesso in piedi l'industria questo è quello che ha portato il fondo vero della rivoluzione d'ottore per quanto riguarda gli aspetti della cultura che tanta parte della nobiltà espropriata rivendicava calunniando la rivoluzione e si era avvassato il livello della cultura russa possiamo dire che in realtà la cultura della borghesia e dei proprietari fondiari non aveva portato nulla di sostanziale di aggiuntivo alla cultura dell'umanità è stata una pallida imitazione della cultura occidentale mentre invece la rivoluzione proletaria si è aperta sul piano internazionale e ha messo a disposizione una cultura aperta al mondo di cui tutti potevano fruire già perché quella cultura della nobiltà è rimasta praticamente totalmente estranea alla gran parte del popolo russo possiamo dire questo che nell'epoca della rivoluzione si sono incontrate due epoche due epoche una quella al tramonto dove la cultura della nobiltà aveva introdotto dei barbarismi del linguaggio piattiletta e anche come sovie come sovie tutto questo è già di per sé sufficiente a giustificare la rivoluzione proletaria ammesso che esta abbia bisogno di una giustificazione cari compagni e cari compagni e simpatizzanti concludendo quello che noi abbiamo ereditato è un grande patrimonio politico enorme enorme un patrimonio politico enorme che ci è stato trasmesso fino ai giorni nostri attraverso generazioni di rivoluzioni è una bandiera che abbiamo impugnato la porteremo con orgoglio con determinazione perché proprio nell'epoca attuale un'epoca di crisi storica del capitalismo c'è bisogno di questo noi lo possiamo dire siamo sicuri che questo lo potremmo lo potremmo fare perché già lo stiamo facendo sicuri come siamo di quello di quello che vogliamo quello che vogliamo noi siamo siamo certi di dove vogliamo andare e in sostanza siamo anche certi di quello che ci aspetta di tutto questo noi abbiamo una piena consapevolezza viva la tendenza marxista internazionale e ho concluso ottimo io ringrazio franco per la sua ottima introduzione a questa a questa discussione spiegato molto bene gli eventi della rivoluzione russa le elezioni e anche le implicazioni per la situazione attuale io in questo momento non ho ancora nessuno che ha chiesto di intervenire quindi vi prego di alzare la mano ecco arriva il primo allora continuate ad alzare le mani e a segnarvi in chat in modo che possiamo avere una stima rispetto ai tempi ovviamente i primi che intervengono avranno qualche qualche minuto in più allora io lascio a questo punto la parola a o Francesca o Rocco perché il intervento è stato richiesto dall'account doppio e scopriremo eccolo qua si prepara Fabio Ruffinotti prego no è molto brevemente intanto grazie anche da parte mia perché sono molto importante il modo in cui hai introdotto la discussione volevo soltanto puntualizzare o aggiungere forse qualcosa su un aspetto su due aspetti il primo molto velocemente è quello secondo il cui guardando in televisione gli storici attuali che raccontano quei giorni sentiamo spesso parlare di un colpo di stato perché proprio in quella o l'occasione finale di tutta la carrellata di eventi che Franco ha ben descritto nell'occasione finale non ci fu un'insurrezione di centinaia di migliaia di persone che in piazza pressavano contro il palazzo d'inverno ma fu un'insurrezione organizzata di quelle 30.000 persone che riuscirono ad entrare senza colpo o ferire nel palazzo d'inverno e perché in maniera molto opportunista e disonesta viene detto che ci fu anche un ruolo importante davanti dell'esercito ora quando noi parliamo di colpi di stato parliamo di generali e quindi di parti dell'esercito che è un esercito spesso permanente in quelle situazioni lì quindi non popolare non fatto da operaiche erano estremati dalla guerra e non volevano più saperne sentiamo parlare di generali di esercito che vanno a prendere il potere in alcuni paesi spesso lo sentiamo dire in Sud America e lo storico e lo storico televisivo borghese che vuole darci quel tipo di informazione gioca su questo e ci fa quel tipo di intervento lì in realtà come Franco ha ben detto ci sono stati tantissimi tantissimi episodi la rivoluzione di ottobre potrebbe essere definita il culmine della rivoluzione di febbraio tutta una rivoluzione che parte in maniera diciamo come una rivoluzione borghese e poi si trasforma con la partecipazione popolare che spesso come ha detto anche Franco ha trascinato anche i bolshevichi nel momento in cui ancora pensavano non fosse il momento verso quell'insurrezione finale che solo perché è stata preparata in maniera molto molto meticolosa in maniera anche ha raggiunto il punto di ebollizione usando le stesse parole di Franco nel modo giusto ha avuto quel risultato lì e l'esercito ha avuto il ruolo semplicemente di non reprimere non difendere il governo ormai morto fino alla fine e quello è stato il ruolo dell'esercito cioè gli operai e i contadini che facevano parte dell'esercito hanno capito che in quel modo potevano contribuire alla propria liberazione dalla guerra e dalla condizione di sfruttati perché in quell'esercito c'è una condizione anche di classe che viene a prevalere e questo è un aspetto l'altro aspetto che mi piace sottolineare è che in quel famoso discorso Lenin il 25 ottobre quando in quel discorso in cui dichiara compiuto la rivoluzione lui parte subito con chiarezza a far capire che quella rivoluzione da sola non ce la può fare mentre avviene nel momento di maggiore gloria lui dice che il primo compito della rivoluzione è la pace quindi interrompere la guerra capitalista per interrompere quella guerra c'è bisogno di lottare contro il capitale che la produce e ci sarà bisogno per questo degli operai e degli operai della classe operaria dell'Italia e Inghilterra perché questi potranno aiutarci a concludere questa guerra in realtà questa internazionalizzazione del problema non è mai mancata di Lenin e della dirigenza bolshevica fino a quando c'è stato Lenin quando poi il potere è passato a Stalin questa cosa è completamente ribattata è stato l'inizio di un'altra storia che purtroppo sappiamo come è finita quindi alcuni aspetti fondamentali della teoria Lenin ce li aveva presenti anche nella prassi del momento mentre c'era il momento più glorioso e più impegnativo non ha smesso mai di dirlo faccio un esempio lui se ne è accorto anche nei quattro anni successivi durante la guerra civile quando per esempio per sconfiggere l'invasione di 21 eserciti stranieri insieme alle guardie bianche c'è stato bisogno anche degli lavoratori degli altri paesi perché si ricorda spesso l'episodio o meglio ricordiamo noi lo dimenticano gli storici di qui sopra di quando i portuali britannici fecero uno sciopero per impedire che si caricassero le armi che dovevano essere portate poi in Polonia per combattere contro 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 gli operai russi per cui ecco questa questione internazionale è presente anche nel momento in cui c'è l'insurrezione non è nessuna teoria bolshevica o marxista è una teoria che sta in aria per i fatti suoi ma è tutto tutto serve nella cassetta degli attrezzi di un partito rivoluzionario grazie a Rocco lascio a questo punto la parola a Fabio Ruffinotta spero di aver pronunciato bene sì sì è giustissimo intanto ciao a tutti io volevo spostare un attimino l'attenzione proprio su due argomenti che sono venuti fuori dopo queste esposizioni di quella che è stata la rivoluzione russa intanto condivido sul fatto che affinché vi sia una rivoluzione quindi un cambiamento di un ordinamento presente preesistente sia necessario soprattutto in ambito marxista la presa di consapevolezza del fatto che il proletariato è una classe e essendo una classe ha chiaramente degli interessi da contrapporre ad una classe dominante ecco io mi chiedo e vi chiedo se secondo voi in questo momento c'è una coscienza di classe nel senso che arriviamo da 25 anni circa di neoliberismo che ha non soltanto modificato i rapporti di forza sussistenti dal punto di vista della logica del capitale in particolare rispetto all'accumulazione del saggio del profitto che si è moltiplicata in questi ultimi 25 anni ma che soprattutto ha vanificato moltissime conquiste sociali soprattutto per quanto riguarda i diritti acquisiti durante la prima fase della costituente repubblicana quindi parliamo dello statuto dei lavoratori del 74 ma ancora prima con le lotte peraglie degli anni 50 e credo che questo abbia portato a una parcellizzazione e quindi ad una mancata consapevolezza di quello che la reazione ha portato avanti in questi ultimi 25 anni l'altra domanda che mi pongo e vi pongo è che tipo di sistema si può costruire che tipo di socialismo rivoluzionario si ha in mente anche dal punto di vista dell'organizzazione di diverse forze marxiste e leniniste che sono presenti in Italia in questo momento e che anche esse sono parcellizzate non dimentichiamoci che già in ambito parlamentare la sinistra ha un frazionamento in questo momento assolutamente inaccettabile e che anche le forze marxiste al di fuori del cosiddetto arco parlamentare vivono di sfumature più o meno più o meno diciamo così rilevanti e quindi certamente la coscienza di classe è importante ma è anche importante aggregarsi intorno ad un'unica forza rivoluzionaria che possa in un certo senso scardinare i principi base su cui il neoliberismo sta costruendo questa nuova forma di oppressione della classe operaria il terzo e l'ultimo punto che vi sottopongo è l'emergenza ambientale cioè come può un partito marxista leninista mettersi in un'ottica sostanzialmente non soltanto di rivoluzionare rapporti di forza che sussistono che sussistono tra capitale e lavoro ma possa costituire un sistema economico alternativo in grado di fare fronte ad un'emergenza che a detta di tutti gli scienziati basta leggersi l'ultimo rapporto dell'IPCC ci pone di fronte al fatto che se non si corre ai ripari tra 15 anni potremmo andare incontro alla sesta estinzione di massa quindi pongo questa riflessione insomma lancio un po' il dado cercando magari di un attimino di fare una trasposizione tra quello che è stata la rivoluzione russa e quali sono i presupposti secondo voi che si possono appunto portare per poter trasformare la società come il marxismo sostanzialmente insegna grazie a tutti ecco grazie mille a Fabio per le sue domande che immagino stimoleranno il dibattito io in questo momento non ho nessuno segnato prendo solo due minuti per come promesso prima farvi vedere il programma e la procedura di iscrizione alle discussioni che avremo dal 25 al 28 luglio dell'università marxista per vederle semplicissimo basta andare su rivoluzione punto red qui sulla destra vedete che c'è il banner dedicato all'evento il programma è molto ricco sabato 25 luglio ci sarà una discussione di prospettive per la rivoluzione mondiale che sarà introdotta da Alan Boots e poi una sessione per la raccolta di autofinanziamento della nostra internazionale domenica 26 luglio avremo due sessioni in parallelo con tre discussioni per ogni sessione perché il capitalismo ha fallito la storia della tendenza marxista internazionale il marxismo e la scienza moderna e poi una seconda con collaborazione di classe compromesse crisi del riformismo marxismo contro settarismo e marxismo contro postmodernismo lunedì 27 una prima sulle basi dell'economia marxista sul ruolo dello stato quindi marxismo contro anarchismo e sul materialismo storico e una seconda su un confronto fra marxismo la risposta del marxismo alle politiche identitarie proprio uno di questi temi che toccava Fabio quindi cambiare il sistema e non il clima il marxismo e l'ambiente e una sessione su marxismo contro postcolonialismo infine l'ultimo giorno avremo sempre prima tre discussioni in parallelo su marxismo e religione marxismo e teoria queer e marxismo critica al pacifismo e infine una sessione sulla costruzione del partito rivoluzionario in tutto il mondo tutte queste discussioni si sviluppano dalle ore 14 fuso orario italiano alle ore 22 tenete in considerazione che ci saranno appunto abbiamo più di 90 iscritti da più di 90 paesi in tutto il mondo e quindi diciamo che saranno collegati alle ore più disparate e queste sono gli orari italiani per iscriversi è semplicissimo a questa stessa pagina vedete c'è compila questo modulo e avete un modulo del tutto analogo a quello che avete compilato per partecipare alla discussione di oggi o degli ultimi GSM in cui potete indicare i vostri nomi e recapito a cui vi indiremo i link e tutte le istruzioni per la partecipazione per chi partecipa dall'Italia ci sono delle diciamo c'è una una campagna straordinaria un'offerta straordinaria per cui la quota di partecipazione che è molto contenuta per permettere a tutti di partecipare da diritto se si partecipa all'intera scuola quindi con la quota da 30 euro nel caso uno ha reddito o di 15 euro se uno non ha un reddito da automaticamente diritto anche all'abbonamento a rivoluzione quindi al nostro giornale il cui ultimo numero peraltro è appena uscito e consiglio a tutti di richiedere se non l'avete già ricevuto in abbonamento o per me detto questo si è alzato una mano e quindi lascio la parola ad Alessandro Giardiello che è qua chiedendo a tutti di non essere timidi nel segnarsi altrimenti poi può capitare che negli ultimi interventi dobbiamo tagliare i temi prego Alessandro Buonasera compagni Franco scusate un attimo Ah non ti sentiamo aspetta un attimo dovresti Ok Adesso mi sentite? Perfettamente ricominciare dall'inizio Sì dicevo che Franco ha fatto una bella relazione che ci ha parlato di quelle che sono stati gli avvenimenti i fatti che hanno contraddistinto la rivoluzione russa molto spesso chi la critica chi dice che è stato un colpo di mano dei boscevichi una forzatura i liberali danno legittimità solo alla rivoluzione del febbraio non ci parla di quelli che sono stati i fatti ci sono due libri fondamentali che io suggerisco a tutti i compagni uno è stato scritto dallo stesso Trotsky capo del Soviet Supremo e poi dei primi anni dell'armata rossa e in seguito principale oppositore di Stalin quando degenerò la rivoluzione in Unione Sovietica il secondo libro è stato scritto da un giornalista americano che era un rivoluzionario John Reed Dieci giorni che sconvolsero il mondo e lì si vede con dovizia di particolari così come oggi Franco ha illustrato nel suo intervento come la rivoluzione fu un processo di massa Trotsky ebbe modo di dire che la formazione dei quadri e dei militanti comunisti partiva dallo studio approfondito della rivoluzione russa quindi per noi questa discussione ha un'enorme importanza una colossale importanza noi possiamo vedere in questo processo trarre da questo processo importanti lezioni importantissime lezioni io nel poco tempo che ho proverò a illustrarne alcune in primo luogo come ci è stato spiegato Lenin ritorna in Russia e nonostante fosse il capo indiscusso del partito all'epoca non esistevano ancora i segretari questa fu un'invenzione successiva dello stesso Stalin spesso il segretario nel partito bolshevico era una figura secondaria Lenin si trova in minoranza assoluta all'interno del proprio comitato centrale da solo convince il partito nel giro di pochi mesi trovando il sostegno e l'appoggio dei lavoratori più avanzati in particolare quelli del quartiere operaio di Viborg che la rivoluzione non è una rivoluzione democratico nazionale ma è una rivoluzione socialista e che i lavoratori nonostante all'epoca fossero una piccola minoranza della popolazione russa gli operai industriali erano circa il 4% della popolazione era un proletariato combattivo molto concentrato in grandi realtà industriali che in gran parte erano state create dal capitalismo internazionale un proletariato molto combattivo che però era minoritario in un mare di cittadini in una società arretrata dalle caratteristiche feudali la posizione che avevano i mescevichi socialisti rivoluzionari così come il partito bolshevico guidato prima dell'arrivo di Lenin da Kamenev e dallo stesso Stalin che dirigeva la Pravda era una posizione di sostegno alla cosiddetta borghesia democratica lo schema che guidava questi compagni è che la rivoluzione era una rivoluzione borghese e quindi era la borghesia che doveva prendere il potere nelle proprie mani il problema così come l'aveva spiegato Trotsky da tempo in un testo molto famoso bilancie prospettive del 1906 è che la borghesia russa non aveva un atomo di posizioni rivoluzionari i giacobini erano stati superati facevano parte di un'altra fase storica la Russia era arrivata al capitalismo troppo tardi e non c'era alcuna volontà da parte della borghesia di fermare la guerra e di fare una rivoluzione borghese portando avanti quelli che sono i compiti classici di una rivoluzione borghese cioè la distribuzione della terra la riforma agraria queste riforme non a caso che erano al centro del programma dei socialisti rivoluzionari che erano una formazione contadina democratica rivoluzionaria questo programma venne portato avanti dai bolsheviti dopo la presa del potere non è un caso infatti che Kamenev nel primo articolo di critica alle tesi di aprile di Lenin dirà che Lenin aveva aderito alle posizioni di Trotsky rimanendo legato a un vecchio schema che era stato sviluppato anni prima della dittatura democratica e rivoluzionaria degli operai e dei contadini le lezioni che possiamo trarre come dicevo sono molte perché mentre da una parte c'era un'intransigenza totale e assoluta da parte di Lenin contro gli altri partiti della classe operaia russa nel corso dell'agosto quando ci fu il tentativo di golpe da parte di Kornilov Lenin non esitò un solo istante ad applicare una tattica di fronte unico con quei partiti che lo avevano costretto a scappare in Finlandia che avevano arrestato Trotsky la famosa frase fu dobbiamo appoggiare il nostro fucile sulle spalle di Karensky e di fatto furono gli artefici i protagonisti della lotta contro il golpe che venne sconfitto se c'è stato un golpe nel 17 questo non fu quello dei boscevitti ma fu il tentativo sconfitto di Kornilov che avrebbe imposto una dittatura spietata se fosse riuscito a conquistare i porti l'altro aspetto fondamentale è che una teoria compiuta sullo Stato i rivoluzionari i marxisti la svilupparono solo nel corso della rivoluzione esistevano le riflessioni di Marx dopo l'esperienza della comune di Parigi vorrei ricordare che i bolshevichi facevano lunghi seminari di quello che fino all'epoca era stata l'unica rivoluzione proletaria appunto la comune di Parigi esistevano le riflessioni di Marx ma una teoria compiuta sullo Stato operaio non c'era e venne sviluppata in Finlandia da Lenin proprio nel corso della rivoluzione quel testo è un testo fondamentale rappresenta un vero e proprio spartiacque tra le concezioni rivoluzionarie e le concezioni riformiste è fondamentale anche distinguere un altro aspetto che spesso viene confuso anche da compagni che si considerano comunisti e cioè la differenza che esiste tra il termine rivoluzione ed il termine insurrezione la rivoluzione è un processo che parte dalle masse parte spontaneamente dalle masse quando arrivano al punto in cui i livelli di sopportazione vengono infranti e sono alla ricerca di un'alternativa la rivoluzione del 1905 fu una rivoluzione spontanea la rivoluzione che parte nel febbraio del 17 fu una rivoluzione spontanea non venne preparata da nessuno e quindi la rivoluzione è un processo tra l'altro un processo all'interno del quale noi vediamo fasi di avanzamento come il febbraio il marzo diciamo fino al giugno e anche fasi di arretramento per non dire proprio contro rivoluzionare come fu nel luglio e nell'agosto così come lo vediamo nella guerra civile spagnola e in altre esperienze rivoluzioni l'atto dell'insurrezione invece non è spontaneo è un atto organizzato da un partito che esprime la volontà rivoluzionaria della classe lavoratrice e che è in grado di dargli un'espressione compiuta che è quello che fece appunto il comitato militare rivoluzionario dei soviet sotto la direzione di Trotsky e di Antonov Ovsenko nell'ottobre del 17 e con il sostegno del partito bolshevico e della stragrande maggioranza dei lavoratori i bolshevichi avevano dietro l'appoggio come dimostra il fatto che la grande maggioranza dei rappresentanti eletti i soviet sostenevano le posizioni bolshevichi riuscirono nel corso di quel processo tra il febbraio e l'ottobre a conquistare la maggioranza del proletariato russo partendo da una posizione di minoranza è anche molto istruttivo il metodo anche lì del fronte unico perché l'obiezione che veniva fatta Lenin quando lui avanzò la parola d'ordine e tutto il potere ai soviet da parte di alcuni bolshevichi dice ma i soviet sono guidati da partiti che non vogliono prendere il potere cioè dai menshevichi e dai socialisti rivoluzionari la loro idea è che il soviet era una rappresentanza ausiliaria del governo provvisorio che doveva sostenere il governo provvisorio ma che era un'altra alla classe che doveva condurre il processo Lenin nonostante fossero i riformisti i conciliatori ad avere la maggioranza diceva prendete voi il potere perché perché questo aveva era un metodo per educare le masse era un approccio pedagogico parlava ai dirigenti riformisti addirittura gli chiedeva di prendere il potere sapendo benissimo che non erano assolutamente intenzionati a farlo per spiegare alle masse qual era la unica via per affermare il processo rivolso ci sono anche altri comunisti che considerano i soviet come una caratteristica esclusivamente russa io mi sento dismentire categoricamente questa idea perché dal 1917 ad oggi è passato oltre un secolo abbiamo visto numerosi processi rivoluzionari e diversi di questi sono stati trattati dai nostri gruppi di discussione marxista dai nostri video dell'attività online che ha organizzato in questi mesi la nostra organizzazione sinistra classe rivoluzione noi abbiamo visto la formazione di consigli di giuntas di assembleas populares in tutti i processi rivoluzionali nella storia il fatto che cambiassero il nome a seconda delle latitudini a seconda dei paesi non significa che cambiasse la sostanza di questi organi perché i soviet perché i soviet sono l'unico organismo che è in grado di rappresentare in forme immediate i salti di coscienza che all'interno di un processo rivoluzionario inevitabilmente si produce e qui vengo alla domanda che ha fatto il compagno Fabio su cui mi piacerebbe dire alcune cose che riguardava la prima domanda la questione della coscienza di classe ora la questione della coscienza di classe è una questione molto dibattuta a sinistra però poco compresa e non sto dicendo che sia poco compresa da parte di Fabio sto parlando in generale di quello che è il dibattito a sinistra nel senso che la coscienza di classe è qualcosa di molto elastico che cambia in forme brusche e repentine particolarmente in un processo rivoluzionario ora noi per capire se i proletari di oggi possono fare una rivoluzione come venne fatta dal proletariato russo nel 17 non dobbiamo partire dall'attuale livello di coscienza dei lavoratori in Italia perché se noi guardiamo a quello che era il livello di coscienza per esempio degli operai russi nel 1905 la rivoluzione del 1905 venne guidata da un prete ortodosso da Pope e Gapon che si faceva e guidata anche da un sindacato reazionario che era stato costruito dallo stesso regime il sindacato di Zubatov i lavoratori scesero in piazza nel 1905 per chiedere al padre della patria cioè allo czar che facesse delle riforme non hanno mostrato un alto livello di coscienza fu dopo la domenica del terrore del massacro dei lavoratori russi che si radicalizzarono e che iniziarono a trarre conclusioni rivoluzionali sto prendendo un po' di tempo il moderatore me lo segnala però volevo finire su questo su questo concetto che è un concetto fondamentale e noi dobbiamo avere ben presente che la la coscienza dei lavoratori ha dei cambiamenti molto bruschi oggi potenzialmente il proletariato è molto più preparato rispetto a quanto non fosse all'inizio del ventesimo secolo perché intanto perché non è una minoranza nella società oggi i lavoratori dipendenti operai e lavoratori in genere rappresentano la maggioranza della popolazione e questo è un dato oggettivo si dice che è sparito il proletariato non lo so non so su che base lo dicono visto che ci sono due miliardi di proletari nel mondo la questione agraria è una questione sostanzialmente risolta mentre invece all'epoca di Lenin di Trotsky della rivoluzione russa era un problema centrale di qualsiasi processo rivoluzionario si sviluppò in quegli anni i contadini ormai sono una classe minoritaria e non svolge un ruolo decisivo nella società se vediamo anche in paesi che una volta erano definiti del terzo mondo c'è stata un'urbanizzazione impressionante negli ultimi trent'anni abbiamo percentuali di urbanizzazione dell'ottanta a novanta per cento nei paesi dell'America Latina in Asia ed esistono le basi proprio per l'enorme sviluppo delle forze produttive che c'è stato per organizzare un'economia pianificata come mai c'è stata nella storia la questione è quindi e lo vediamo negli Stati Uniti che erano considerati il cuore della bestia venivano considerati da molti nel vecchio partito comunista come un unico blocco reazionario oggi è in corso un processo pre-rivoluzionario in quello che è il principale paese imperialista nel mondo il vero e proprio pilastro dell'ordine costituito a livello mondiale le politiche neoliberiste degli ultimi 25 anni hanno avuto un effetto superficiale sulla coscienza e questo cambierà bruscamente come lo abbiamo visto negli Stati Uniti ed America e come presto vedremo in molti paesi a livello internazionale le forze rivoluzionarie saranno anche parcellizzate però su questo e la seconda domanda che ha fatto Fabio non dobbiamo essere superficiali le discussioni che attraversano i vari gruppi che si richiamano al marxismo spesso non sono secondarie come dicono alcuni che pensano che bisogna fare l'unità a tutti i costi l'unità ha senso se ci sono delle basi politiche comuni mi riferisco ad esempio a quello che fu il dibattito che ci fu nel partito social rivoluzionario russo tra chi pensava che la rivoluzione doveva essere un processo guidato dalla borghesia e chi invece pensava che il proletariato era l'unica classe rivoluzionaria poteva sembrare una disquisizione teorica che però si rivelò decisiva poi quando realmente la rivoluzione partì nel febbraio del 17 ad unificare il movimento rivoluzionario a farlo avanzare e a superare le divisioni penseranno i movimenti di massa che si svilupperanno già a partire dal prossimo autunno noi non crediamo ai contenitori a freddo alle fusioni che non hanno basi politiche ai fronti di unità che non sono spinte dai movimenti di massa così come si è visto nella rivoluzione russa unificazione tra il partito bolshevico e i medrayonsi il comitato interdistrettuale di Trotsky avvenne nel corso del processo rivoluzionario dopo anni di polemica che solo in quel processo vennero risolti sulla base delle risposte che questi due grandi dirigenti seppero dare nel corso della rivoluzione tra il febbraio e l'ottobre dove furono totalmente uniti rispetto agli obiettivi da portare avanti la questione ambientale per concludere è una questione decisiva è una questione centrale che ha visto la mobilitazione di milioni di giovani prima di questo lockdown che tornerà al centro delle nostre priorità ci sono stati dei grandi contributi da parte di Marx e di Engels su questa questione mi riferisco a un testo incompiuto come la dialettica della natura abbiamo gli strumenti politici filosofici e costruiremo anche quelli organizzativi nei prossimi anni per affrontare questo problema che però in ultima analisi può trovare una soluzione solo quando riusciremo ad espropriare i grandi mezzi di produzione le aziende del fossile che sono state le principali responsabili della distruzione dell'ecosistema oggi una rivoluzione è possibile il nostro scopo è quello di preparare l'avanguardia perché come dimostra la rivoluzione russa senza un partito organizzato che abbia radici nel movimento di massa una rivoluzione non può giungere al potere e una volta che costruiremo un moderno potere socialista basato sul controllo dei lavoratori sulla pianificazione economica dove non ci sarà più la questione di garantire i profitti per una minoranza ma ci sarà una società governata per il benessere generale dell'umanità affronteremo e risolveremo il problema ambientale così come i tanti problemi che si sono accumulati in questa crisi per colpa di un sistema sistema capitalista di produzione che per definizione è un sistema che è disposto a sacrificare tutto sull'altare dei profitti di un pugno di capitalisti a spese di miliardi di persone come è stato fin troppo evidente in questa crisi sanitaria quindi noi dobbiamo ispirarci alla rivoluzione russa non dobbiamo semplicemente fare la geografia l'apologia della rivoluzione russa dobbiamo studiarla e apprendere dalle lezioni di questo processo storico fondamentale che ispirerà milioni di lavoratori e di giovani nei futuri processi che attraverseranno la nostra società Grazie Alessandro per il suo intervento si è segnata Francesca a cui lascio la parola Ci stai Francesca? Sì eccomi scusate allora innanzitutto grazie mille della parola e volevo davvero ringraziare il compagno Franco per la sua ottima relazione che personalmente ho trovato davvero di grande ispirazione che tutta questa discussione come è stato rimarcato molto bene negli interventi da Alessandro in particolare proprio adesso tutto questo non è pur accademia ma in realtà tutto questo ci ha lasciato una grandissima eredità sia teorica che politica io direi proprio fin dalla comune di Parigi fino appunto alla rivoluzione russa e tutto questo l'abbiamo ribadito anche quando abbiamo fatto il gruppo di studio sullo stalinismo per sottolineare il fatto che appunto lo stalinismo è un'eredità che invece non ci appartiene contrariamente a tutto il resto e in quel gruppo di studio in particolare è stato rimarcato qualcosa che anche Franco ha sottolineato molto bene nella sua relazione ovvero sia come il carattere socialista appunto di autenticamente socialista di questa rivoluzione al punto tale che avendo sostituito il sistema capitalista che ancora oggi lo vediamo anzi in maniera particolare negli ultimi 12 anni direi possiamo vedere sotto i nostri occhi come il sistema capitalista che sicuramente nel passato ha avuto un ruolo di progressione di impulso dello sviluppo delle forze di produzione però ha portato a questa società di oggi dove ci sono molte dove abbiamo ereditato al contrario molte disuguaglianze sociali non si sono affatto appianate anzi si sono acuite ce ne sono di diverse tipologie come ad esempio la prima che mi viene in mente è la disparità salariale su base di genere che appunto e appunto tuttora queste disuguaglianze sono vive vegete anzi in periodi di crisi economica come questa sono rimarcate ancora di più sono evidenti ancora di più e quindi appunto volevo sottolineare come al contrario sicuramente c'è stata la degenerazione burocratica stalinista nella rivoluzione russa dopo la rivoluzione russa ma nello stesso tempo l'introduzione di un'economia pianificata e di piani quinquennali hanno fatto sì che accadesse quello che diceva Franco nella sua relazione che quello che non si riusciva ad immaginare fino ad allora è diventato possibile che un fabbro potesse diventare caporeparto ma molto di più di questo e a proposito di questo volevo ricordare un episodio in maniera particolare che mi è stato ricordato più volte non solo nel gruppo di studio che citavo prima ma anche ultimamente che da una Russia del 1917 che appunto aveva ereditato una società molto arretrata sotto molti punti di vista innanzitutto tecnologico è riuscito in poco più di 40 anni a portare il primo uomo nello spazio mi riferisco ovviamente a Yuri Gagarin il 12 aprile del 1961 e non solo parliamo appunto del figlio di un cartempiere di una contadina quindi appunto per dimostrare come un poco più di 40 anni una società considerata appunto fortemente sottosviluppata si è arrivata a sviluppare la sua tecnologia le sue forze di produzione al punto tale da portare il primo uomo nello spazio nella storia insomma che appunto non era a sua volta figlio di astronauti o di ingegneri spaziali o comunque di diciamo accademici del settore ma appunto era semmai figlio di quelli che per noi sarebbero i città sociali più bassi della società quindi ecco era soltanto per rimarcare questo aspetto in particolare che sottolineava Franco nella sua relazione di come una di come questa rivoluzione socialista ci ha lasciato questa grande eredità questa grande ispirazione che dovrebbe esserci di insegnamento oggi che questo sistema economico non è vero che è l'unico possibile che può essere cambiato e soprattutto può essere cambiato appunto in maniera tale che tutte le disuguaglianze che esistono possono essere affianate in maniera tale che nessuno venga lasciato indietro e tutti possano dare possano esprimere a pieno il proprio talento e appunto quello che è accaduto nella rivoluzione russa e negli anni successivi l'ha dimostrato concretamente tutto questo ecco volevo soltanto sottolineare questo episodio in maniera particolare mi dispiace per la location comunque grazie per avermi ascoltato e un saluto a tutti ho finito perfetto ringrazio anche Francesca per il suo intervento si dice che è un luogo a meno e io in questo momento non ho altri interventi segnati quindi se ci fossero ancora domande o se qualcuno vuole aggiungere qualcosa vi prego di segnarvi in modo da poter intervenire perché è l'ultima occasione che avete altrimenti ok abbiamo Vincenzo Politi prego salve compagni scusate il fiatone non so se riuscite a sentirmi ma io avevo una domanda semplice cioè un paio di domande semplici relativa alle questioni pratiche riguardanti l'ottobre e una era innanzitutto relativa alla teorizzazione che aveva svolto Lenin che riguarda l'importanza della figura del rivoluzionario di professione appunto quanto è importante avere dei rivoluzionari di professione per arrivare a una rivoluzione vittoriosa e in secondo luogo volevo aggiungere una considerazione riguardo i fatti dell'America ovvero quanto è importante l'armamento della classe lavoratrice del proletariato perché come sappiamo l'America da questo punto di vista potremmo dire ben messa e quindi ha a disposizione sicuramente una forza di reazione maggiore rispetto ad altri popoli nel mondo quindi volevo magari chiedere a qualche compagno con più esperienza cosa ne pensava riguardo a queste questioni grazie mille grazie Vincenzo prego credo se ci sono qualcuno vuole intervenire in merito alle sollecitazioni fatte da Vincenzo lasciamo la parola a Franco per poter rispondere e concludere questa discussione allora nessuno sta chiedendo la parola io in questo allora io diciamo colgo l'occasione a questo punto e dico due cose io visto che non ci sono altri altri interventi siamo sollecitato da da questa da queste domande di di Vincenzo la relazione di Franco e anche alcuni interventi hanno trattato bene penso la questione del rapporto dialettico che si crea in un processo rivoluzionario dove tutto viene messo in movimento dove le strutture di potere che esistono e che sembrano incrollabili sembrano immodificabili e fino a prima dell'esplosione rivoluzionaria sembrano onnipotenti tutto questo viene scosso dalle sue fondamenta e viene scosso dalle sue fondamenta dall'ingresso sulla scena politica delle masse in quell'opera che veniva citata la storia della rivoluzione russa Trotsky proprio all'inizio nella prefazione affronta la questione di che cosa sia una rivoluzione e lui sostanzialmente spiega come una rivoluzione sia innanzitutto l'ingresso delle masse sulla scena della storia il fatto che persone che fanno funzionare la società quotidianamente ma non hanno coscienza della forza potenziale che hanno nelle proprie mani e che sono abituate a delegare la vita politica attiva l'idea della presa delle decisioni su le cose importanti ad altri che possono essere una classe dominante per quanto riguarda le questioni economiche i padroni delle aziende i consigli di amministrazione gli espertoni i professoroni che fanno che si riuniscono e elaborano le teorie politiche e i piani economici o il personale politico e quindi l'apparato statale l'apparato politico che però è sempre collegato agli interessi della classe dominante in condizioni normali le scelte vengono delegate a queste persone ecco una rivoluzione che può assumere e assunto nella storia diciamo forme e ritmi diversi anche se segue alcune leggi che ritroviamo in tutte le esperienze rivoluzionarie è precisamente il momento in cui queste masse irrompe sulla scena e questo lo fanno appunto non lo fanno i rivoluzionari di professione non lo fanno i quadri politici e non lo fanno le organizzazioni per quanto bene si preparino queste organizzazioni e questi quadri politici giocano un ruolo decisivo nello sviluppo e nella capacità di collegarsi ai settori più avanzati della classe lavoratrice e dunque delle masse che scendono in azione e dirigere questo processo ma non dirigerlo con quella retorica che poi abbiamo trovato troviamo tanto soprattutto nelle ricostruzioni staliniste della rivoluzione della rivoluzione d'ottobre partito granitico dirigenti che hanno tutto chiaro dal primo momento nessuna discussione una strada dritta verso la vittoria ma in realtà quello di comprendere quali sono le fasi che sta attraversando quando bisogna avanzare quando bisogna trattenersi per quanto possibile pensiamo al passaggio delle giornate di luglio che veniva spiegato e quanto appunto offrire prima ai settori più avanzati per conquistarli e poi man mano conquistare la maggioranza e la direzione della classe e dunque questa questione del ruolo delle masse del ruolo della direzione quindi dell'esistenza di un partito che si risolve nel momento in cui questa direzione è in grado di far arrivare le proprie posizioni appunto a settori maggioritari della classe lavoratrice e quindi a quel punto di poter operare la rottura rivoluzionaria e quindi sì è fondamentale la questione appunto dell'esistenza dei rivoluzionari di professione ma non esaurisce la questione altrimenti appunto la sposta solo su un binario entrambe le cose sono necessarie sulla questione dell'armamento diciamo così noi tutte le esperienze delle rivoluzioni dimostrano come posizioni pacifiste siano posizioni assolutamente improduttive sono in realtà posizioni trasmesse all'interno della classe lavoratrice da parte della classe dominante che dice il pacifismo bisogna fare i processi politici in forma esclusivamente pacifica sostanzialmente per avere la controparte disarmata quando poi la classe dominante utilizza giganteschi apparati di repressione anche armati polizia corpi diversi innumerevoli corpi di polizia militari che diciamo si dividono il compito quotidianamente nella repressione della delle contraddizioni anche violente che partono dal basso della società per provare a rompere una società strutturalmente oppressiva e che basa la sua oppressione sulla violenza questo vale diciamo si in forma molecolare all'interno di ogni singolo posto di lavoro all'interno di ogni vertenza quando esplode e in forma generale quando ci sono delle mobilitazioni di massa per cui rifiutiamo una posizione pacifista però la forza di una rivoluzione proprio nel suo carattere di massa che spiegavo prima è il fatto e la capacità di disgregare l'apparato repressivo dello Stato perché questo apparato repressivo è costituito non è costituito da borghesi e figli di borghesi sono esistiti anche gruppi di questo genere nella rivoluzione francese per esempio la guardia nazionale ma un esercito di massa apparati repressivi di massa sono costituiti fondamentalmente da proletari figli di proletari nel caso russo contadini figli di contadini che erano stati mandati a morire in guerra nel macello della prima guerra mondiale e questo carattere lo rivediamo anche oggi quando c'è una mobilitazione veramente di massa che non è disposta diciamo così ci sono due elementi il primo è quello di una identificazione di classe dei settori di base dell'apparato repressivo nei confronti di chi ha davanti e il secondo è la forza della mobilitazione di massa e la sua decisione a non arretrare più questo e questa è una legge lo vediamo sempre ripetersi crea almeno degli elementi inizialmente di disgregazione se non poi degli elementi veri e propri di solidarietà nei confronti del movimento da parte degli elementi di base dell'esercito ed è per questa ragione anche che per esempio negli Stati Uniti c'è stata un'opposizione da parte dei vertici militari del Pentagono a schierare l'esercito nelle strade a supporto della polizia perché già vedevamo alcune difficoltà quantomeno mi permetto di dire da parte degli elementi di base della polizia abbiamo visto molte volte le scene di agenti che venivano ritirati in seconda linea e sostituiti perché i diretti superiori capivano che la pressione che avevano addosso non avrebbe assicurato un'azione repressiva affidabile ma pensiamo che cosa vorrebbe dire mettere in campo l'esercito che è reclutato nei settori popolari della società statunitense in gran parte reclutato fra persone che non hanno una prospettiva di lavoro e che quindi si arruolano semplicemente per poter portare a casa uno stipendio che è stato attraversato dall'esperienza delle guerre in questo caso guerre imperialistiche combattute all'estero in Afghanistan in Iraq per cui c'è un grosso scetticismo già esistente almeno in settori dell'esercito statunitense verso la classe dominante e verso gli stessi vertici militari ecco mettere questi uomini a confrontarsi non con gruppi di 100 o 200 attivisti come li chiama Trump antifa che rompono le vetrine che è una visione caricaturale e da questo punto di vista non capiranno mai niente quelli che teorizzano appunto ideologizzano lo scontro frontale verso gli apparati repressivi questo non fa altro che in realtà fare il gioco dei vertici militari o dei vertici polizieschi a dire guardate sono i classici sono i 200 dei centri sociali che vengono e vogliono l'estetica dello scontro non interessa l'estetica dello scontro non interessa vincere lo scontro e questo lo fai quando c'è una mobilitazione di massa e quindi elementi di questo genere messi davanti a manifestazioni di centinaia di migliaia di persone in decine se non centinaia di di città con un tracollo della credibilità del regime economico del regime politico dei vertici politici e militari che vedono i propri fratelli sorelle padri figli che sono in una lotta di questo genere che è evidente a tutti che è una lotta giusta e dunque lo è evidente anche ai livelli appunto più diciamo di base dell'apparato repressivo tu avresti uno sfaldamento e quando ti si sfalda l'esercito il potere sostanzialmente resta nelle strade resta potenzialmente quantomeno nelle mani della classe della classe lavoratrice il problema questo è un meccanismo che abbiamo visto ripetersi in tutti i processi in tutti i processi rivoluzionari anche quelli sconfitti pensiamo agli ammutinamenti dell'esercito all'inizio della rivoluzione tedesca sulla balda poco subito dopo quella russa precisamente quello che è successo in russa che spiegava che spiegava Franco ma nel maggio francese De Gaulle scappò dalla Francia perché aveva perfettamente chiaro che non sarebbe stato mai in grado di reprimere quel movimento e fu la direzione invece del movimento operaio e del partito comunista soprattutto a diciamo permettere la ricostituzione dando un tempo e di fatto appoggiando la ricostituzione e la ristabilizzazione dell'apparato dello Stato dello Stato borghese nel biennio rosso in Italia fu precisamente la stessa la stessa situazione e e oltre a questo diciamo a questo a questo sfaldamento a questa impasse a questa disgregazione corrispondono sempre la creazione di organismi di contapotere e che lo diceva Alessandro mi sembra nel suo intervento si sviluppano sempre possono prendere tanti nomi in Russia ha preso il nome di Soviet in Cile pochi mesi fa hanno preso il nome non hanno raggiunto il livello diciamo così di decisionale di potere assunto dai Soviet ma hanno preso il nome per esempio di Kabilos Abertos assemblee popolari che organizzano il movimento e che progressivamente man mano che si crea una situazione di dualismo di potere prendono in mano la gestione generale della società coordinandosi tra di loro d'altronde anche i Soviet nascono come comitati di sciopero sostanzialmente organismi operativi di un movimento che poi man mano prendono in mano la gestione dei vari aspetti della società proprio con questa diciamo con questa strutturazione di un nuovo potere alternativo più rapidamente e più decisamente questo processo viene sviluppato e quindi appunto è un processo di massa compreso funzioni militari però quello che avviene sostanzialmente è che appunto vengono aperte le caserme viene armata la popolazione si armano i lavoratori più decisamente questo processo avanza meno violenza è necessaria in un processo rivoluzionario perché appunto la disgregazione dell'apparato repressivo dello Stato porta alla possibilità di processi del tutto pacifici come furono le giornate dell'ottobre in Russia e come potenzialmente sono stati numerosissimi processi processi rivoluzionari anche anche nel novecento e come potrebbero esserlo oggi questa è la verità e se questa questa questo diciamo questa questa organizzazione rivoluzionaria manca invece si creano le condizioni poi per una ricostituzione una riorganizzazione e dunque una ruolo molto più sanguinario della della reazione e però appunto è questo elemento fondamentale dal punto di vista prettamente militare sarà sempre impossibile una vittoria sul campo aperto contro un esercito professionale nazionale l'essenza della rivoluzione è precisamente la disgregazione di questo apparato di questo apparato repressivo e la sua rottura su basi su basi di classe per cui alla fine cosa succede che è quello che si raccontano tutte le testimonianze tra le rivoluzioni che i verdi generali i colonnelli gli altri ufficiali danno ordini e questi ordini cadono assolutamente nel vuoto perché non vengono eseguiti fin tanto che qualche sotto ufficiale o qualche soldato direttamente arresta i propri diretti i propri diretti superiori e quindi e quindi quell'apparato repressivo cessa di esistere e quelle armi passano dalla parte della rivoluzione ovviamente non voglio semplificare ma questa è l'essenza che ci insegna anche la rivoluzione la rivoluzione russa ma i cui elementi ritroviamo appunto ritroviamo tutt'oggi li ritroviamo in Sud America li ritroviamo in Iraq li ritroviamo e li ritroviamo anche anche nel movimento statunitense forse su un livello ovviamente per ora inferiore rispetto a quello che abbiamo visto in Russia io mi scuso se diciamo uscito dal semplice ruolo di moderatore di questa riunione però nessun altro si era segnato e tuttora nessun altro si è segnato quindi se non ci sono altri interventi a questo punto lascerei la parola a Franco per le conclusioni di questa discussione vai ok bene grazie compagni per gli interventi sono stati tutti molto belli approfonditi diciamo che praticamente hanno risposto a tutti gli interrogativi che potevano potevano sorgere dalla mia relazione proverò dunque a dire le cose dal momento che tante risposte sono già state date una sulla questione aggiungendo qualche considerazione sulla questione del colpo di Stato lo storico di destra malaparte aveva definito parlando della rivoluzione russa che a vincere in quella rivoluzione non era stata la strategia di Lenin ma la tattica di Trotsky e questo in relazione ad una concezione dove non vedeva non si vedeva il protagonismo dell'Emaso che comunque poi si riteneva più prebolderante di maggiore importanza l'aspetto cospirativo quello che più si poteva avvicinare all'idea del colpo di Stato beh insomma tutta la dinamica degli avvenimenti che vanno dal febbraio dal 23 febbraio del 1917 fino alla sua conclusione con la presa del potere con la conquista del palazzo d'inverno e la conclusione del congresso del congresso dei soviet mi pare che dimostri esattamente il contrario basta ricordare che ad esempio appena un mese prima dello scoppio della rivoluzione di febbraio cioè del 23 febbraio circa un mese Lenin stesso aveva affermato chissà se io mai potrò assistere avere entrare vedere lo sviluppo di una rivoluzione ecco e poi gli eventi della storia questo dimostra anche come questa cosa non una rivoluzione non possa in nessun modo essere preordinata eccetera prevista nella sua tempistica eccetera è scoppiata con un movimento dal basso qui veramente veramente dal basso nel senso che non era stata quella insurrezione non era stata preordinata preordinata da da nessuno ecco quindi l'intervento delle masse è attiva ma soprattutto soprattutto quello che è fondamentale è proprio lo sviluppo dialettico intorno di tutto questi mesi dove si vede che tra avanzamenti qualche arretramento le masse prendono sempre più coscienza della loro forza intervengono negli avvenimenti anche gli avvenimenti si determinano anche indipendentemente diciamo da una volontà soggettiva delle masse ma quando i fatti ci sono si verificano gli avvenimenti ci sono le masse intervengono e li modificano questi avvenimenti è questo il punto questi sono uno dei punti fondamentali quindi c'è l'intervento in questo caso soggettivo attivo delle masse che incide nel processo rivoluzionario muta anche il corso degli avvenimenti e sviluppa la questione della coscienza è un sviluppo della coscienza è un accumulo di esperienze è un accumulo di forze questo è un punto molto importante perché in effetti io ormai ho già qualche anno sulle spalle e è il dibattito veramente sterile che al quale ho dovuto assistere in tutta la sinistra anche quella che si definiva marxista comunista in realtà la sostanza di queste posizioni si dava sempre la colpa al ritardo nello sviluppo della coscienza di classe non c'è la coscienza di classe ricordo i dibattiti di fondazione per fare un esempio molto molto concreto in realtà queste cose sono sempre state prese come giustificazione più o meno cosciente ma qualche volta molto cosciente della propria incapacità di sviluppare una prospettiva e di avere una coerenza tra lo sviluppo di quella prospettiva in modo di agire in modo di essere partito in modo di essere avanguardia della classe alla quale spesso si faceva riferimento questa è la questione fondamentale quindi è vero quello che diceva Alessandro che noi è una cosa che io ho imparato proprio in questo organizzio noi non sottovalutiamo affatto gli aspetti della della teoria gli diamo un'importanza fondamentale non è il suo aspetto ma è assolutamente determinante perché alcune cose che possono sembrare poi insomma di facile soluzione insomma uno che cosa si va a coltivare il proprio giardietto la propria soggettività eccetera cioè ci frazioniamo è il refrain che molto spesso ci sentiamo dire ci sentiamo dire ecco cercare l'unità l'unità a tutti i costi non porta da nessuna parte io provo solo un problema qua se Lenin avesse avuto una concessione di questo genere le tesi di aprile non avrebbero mai visto la luce e non solo le tesi di aprile non avrebbero mai visto la luce ma l'enigma del dualismo dei poteri nato dalla rivoluzione di febbraio non avrebbe trovato una soluzione e nelle condizioni della russa di allora non c'era nell'orizzonte la democrazia borghese c'era la dittatura militare come poi i fatti dell'agosto della fine di agosto hanno dimostrato la dittatura di Korn questo era lo sbocco di quelle cose sono grazie all'esistenza di quel partito di quella direzione politica che le cose hanno avuto un esito un esito diverso che tipo di socialismo si può costruire qua devo dire una cosa molto precisa noi abbiamo una concezione materialistica della storia non concepiamo il socialismo come mutuando l'idea da Marx Marx non ha mai concepito il socialismo come qualcosa che scaturisca nella sfera dell'idea eccetera se non addirittura dell'inconscio è un processo un processo che nasce dalle basi stesse del capitalismo questo è il punto fondamentale il tipo di socialismo che si può costruire è quello del socialismo che deriva per prima cosa bisogna rompere con i rapporti di proprietà capitalistici questa è la questione fondamentale rompere con i rapporti di proprietà capitalistici rompere con l'apparato dello stato capitalistico perché da questo punto di vista anche tutta l'evoluzione successiva alla rivoluzione russa del 1917 ci dice ecco che lo stato capitalistico non è riformabile dall'interno qui si tratta di una classe di un dominio di una classe contro questo è il punto fondamentale lo stato capitalistico anche nella sua forma più democratica di tipo di democrazia parlamentare difende sempre la proprietà privata e difendendo la proprietà privata difende gli interessi della classe dominante questa è la lezione che non bisogna mai dimenticare una volta che è risolta la questione del potere il tipo di socialismo ma beh questi compagni saranno i lavoratori stessi che saranno in grado di mettere in piedi questa cosa questa cosa o c'è o non c'è questo è il punto la rivoluzione russa per questo è un esempio provante perché ci ha dimostrato che questa cosa c'è che è possibile l'esempio del fabbro che diventa rimette in piedi dei fabbri che rimettano in piedi l'industria degli operai lungitori di ruote che rimettono in piedi il traffico ferroviario e via discorrendo dell'infermiere che diventa dirige un ambulatorio sanitario ecco queste sono le cose ma chi se non i lavoratori stessi sono in grado di fare queste cose ed oggi parlando proprio dei nostri tempi dei nostri giorni ma che cosa ci dicono le giornate di marzo che cosa ci dicono le giornate di marzo ci dicono proprio questo fatto questo elemento che non ha avuto diciamo numericamente quella rilevanza da farlo considerare un fatto di massa eccetera ma è una punta di un iceberg dove i lavoratori di propria iniziativa ecco contrariamente a quello che è stato l'indirizzo delle burocrazie sindacali hanno preso in mano il proprio destino in questo caso la propria salute ecco ribellandosi a una coercizione che volevano subire che metteva a rischio questa cosa e non è un primo passo forse questo di una consapevolezza che i lavoratori possono fare da sé e per sé e per la collettività questo è il punto queste sono le questioni non c'è stato fino a questo punto un adeguato sviluppo di questa coscienza ma che importa ma io quando mai l'ho vista questa cosa qua scusate questo è tutto un processo che si svolge in questa direzione e non può essere altrimenti che così perché le masse imparano dall'esperienza non è se poi qualcuno operai quali operai che sono necessari hanno anche una preparazione teorica di carattere politico teorico scientifico approfondito sono necessari ma l'esperienza della massa la coscienza della massa deriva dall'esperienza sul campo e anche sul campo che impari a costruire il socialismo una volta che hai nelle mani il potere e che lo tieni e che lo tieni saldamente anche gli anni dopo che sono venuti dopo la rivoluzione la conquista del potere da parte dei bolshevichi hanno dimostrato questo e l'hanno dimostrato la superiorità dei mezzi dei metodi del socialismo nonostante la degenerazione staliniana nonostante questo si sono dimostrati nonostante questo avrebbe potuto essere certamente uno sviluppo diverso non avere se non ci fossero state quelle circostanze storiche che hanno portato a quella degenerazione ma questo è un altro capitolo che sarà utile approfondire in una istanza in un seminario diverso che magari sarebbe poi opportuno fare affrontare ecco oggi anche per quanto riguarda la questione dell'esercito molto spesso si distingue schematicamente anche per esigenti di esposizione tra figure sociali l'operaio il contadino il soldato ma molto spesso poi questa distinzione epistemologica eccetera sì però poi in realtà le figure sono un tutt'uno c'è l'operaio che è soldato il contadino il contadino che è soldato come nel caso della rivoluzione della rivoluzione della rivoluzione russa si sente? sì un esempio per tutti quando inizia questo processo di disgregazione della rivolta del fronte dei confronti del governo ho bisogno che cosa pensava il soldato perché in quella situazione la questione della guerra e della terra erano intimamente connesse il soldato pensava il soldato contadino pensava ma cosa me ne faccio della terra se poi domani io muoio ecco la questione ecco le questioni questa questione può sembrare specifica solo della rivoluzione russa di quel tempo perché parliamo della distribuzione delle terre e della guerra d'accordo ma situazioni di questo tipo si possono verificare o similari in tante altre situazioni future ecco non è perché in realtà figure figure così nettamente distinte nella realtà sociale non esistono e questo vale anche per gli eserciti per gli eserciti eserciti di leva o anche gli eserciti anche eserciti professionali il problema il problema della quando una rivoluzione è veramente una rivoluzione di massa come ha ricordato opportunamente Alessio disgrega l'apparato repressivo dello Stato e quello che è successo negli Stati Uniti d'America è veramente una questione esemplare uno può pensare che questa sia soltanto una pastiera una questione di crisi delle classi dirigenti nel sistema americano certamente c'è una situazione di crisi di questo genere ma badate bene non possiamo essere così superficiali ma c'era anche siccome quel movimento che è scaturito dopo l'assassinio di quel giovane di colore è è una cosa che ha messo di una situazione di crisi come quella che si sta vivendo con la pandemia con questa pandemia in corso che negli Stati Uniti è di una portata gravissima ha messo allarme alle classi di cinque queste hanno paura di queste cose di un confronto di questo genere quindi noi dobbiamo pensare che le classi dirigenti possono anche ricorrere per difendere i loro privilegi le loro pietà alla forza repressiva alla forza aromatica nello stesso tempo non dobbiamo neanche sopravvalutare eccessivamente questa cosa e comunque queste cose quando vengono al petto una forza rivoluzionaria le deve affrontare e le deve sciogliere questo è il punto se ha veramente un movimento di massa alle spalle o comunque un movimento di massa di cui si è messa alla testa e tiene saldamente in mano le redini le redini della conduzione della strategia e della tattica politica ecco un'ultima pariola sulla sulla questione ambientale e questa questione sarebbe sbagliato pensare che questa questione nel marxismo non sia mai esistita perché ricordo che anche non certo nelle proporzioni di oggi questo è del tutto evidente ma questa questione nei limiti diciamo nelle condizioni dell'epoca era presente anche in Marx quando parlava della questione delle acque dell'infinamento industriale eccetera quindi questa è una questione che è pensiero proprio perché il pensiero marxista è un pensiero universalistico che non si limita soltanto alla sfera nuda e cruda dell'economia ma va a guardare oltre in tutti i suoi variegati aspetti e con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione ringrazio molto Franco per le sue conclusioni e direi che questa discussione è stata un'ottima conclusione almeno prima appunto di agosto di questo ciclo di gruppi di studio marxisti rispetto allo sviluppo della degenerazione stalinista e quello che è successo dopo la rivoluzione ricordo che abbiamo effettivamente tenuto una di queste discussioni è stata la seconda se non sbaglio si intitolava Stalinismo un'eredità che non ci appartiene e la potete trovare sul nostro canale youtube cioè se quella della discussione di di oggi e niente rimandandovi a questo e invitandovi nuovamente a iscriversi alla scuola marxista internazionale che ci sarà fra due settimane io vi ringrazio vi ringrazio tutti vi auguro una buona giornata e ovviamente vi invito a restare in contatto con noi e aderire alla nostra organizzazione se vi ritrovate nelle idee portiamo avanti grazie a tutti ancora e buona giornata grazie compagni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti